buongiorno saluti ben trovati siamo qui nella chiesa di san francesco a sorrento per la ricorrenza della festività di santa rita oggi 22 maggio 2022 in occasione la pesca il banchetti con gli zuccherini per i bambini ma anche per gli adulti e quindi andiamo a salutarla buongiorno 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 a voi queste sono le rose benedette di santa rita preparate con dedizione dai terziari francescani perché una devozione di tutti i sorrentini che sono molto legati alla santa queste rose vengono essiccate per tempo di questi petali e poi riposti in questa questa carta e benedetti dai frati è una cosa a cui tengono tantissimo anche perché a causa della pandemia negli altri anni non è stato possibile poterli dare proprio per problemi di attenzione grazie prego prego